abbiamo fatto una serie che abbiamo pagato anche se sarebbe scorretto dire la gente ci sono portate da luce, la gente che ha tornato quest'anno è andato fuori l'aggiume superiore, la sua comunità è stato fantastico, è stato fantastico è stato fantastico, è stato fantastico, è stato fantastico, è stato unico è stato unico, è stato molto affatto, è stato unico lo ragazzi, io ti spacco la patta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.